La Confederazione Italiana Agricoltori di Teramo vi invita a Tesori di Fattoria, undicesima edizione della Mostra Mercato e Degustazione di Prodotti Tipici. Dal 3 al 5 agosto, a Giulia Nova Lido, apre un'area enogastronomica speciale, solo per tre giorni. Nel centro della riviera, tre serate all'insegna delle produzioni agricole di qualità, dei prodotti tradizionali e tipici, dove potrete gustare tutte le sere le specialità della gastronomia teramana, con la grande novità del concorso Vini da Formaggio, presentato da Paolo Lauciani. Tesori di Fattoria, dal 3 al 5 agosto, a Giulia Nova Lido, Piazza Dalmazia, Corso Nazario Sauro.